9-0-0 Verona Due gol annullati alla Juventus Veramente, veramente dubbi Andremo ad analizzare tutto in questo video Prima di tutto like, commenti, sezioni, condivisione e campanella in linea Che sono delle cose importantissime Ma che voi ci mettete poco per farle Quindi fatele, che vi costano poco E con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare Rimanete a giornale sul canale a 360 gradi Quindi che aspettate, fatela E se volete, ditemi la vostra qui sotto i commenti Giuventini, Veronesi e non Allora, Juve-Verona Juve-Verona sia a primo tempo che a secondo tempo Dominati dalla Juventus Il Verona si è fatto vivo solo con qualche zampata di Giurici Comunque, là davanti ogni palla alta che gli capita Le prende tutte quante Perché, appunto, è molto alto Ma del resto, Juve-Verona 0 Solo Juve Juve che gioca, Juve che domina Ma non riesce a trovare il gol Adesso comunque andremo a vedere come finiranno questi ultimi 3 minuti di recupero Però non riesce a trovare il gol Fa proprio fatica Fa veramente tanta tanta fatica Soprattutto nei primi minuti E poi altre dicesimi Quindi venneranno un gol in fuorigioco con Ken Che a sto gol qua mi ci posso pure stare Ecco Perché comunque la regola dice Che Se stai anche con un pelo del culo E scusatemi la volgarità Ma quando ci vuole, ci vuole In fuorigioco È comunque considerabile come fuorigioco Il fuorigioco Il fuorigioco Semiautomatico È impossibile Che sbagli Quindi Su questo invece voglio pure stare Comunque la Juve dopo quello attacca Continua ad attaccare Ma niente Tanti tantissimi gol mangiati E al 53esimo Un altro gol annullato a Ken Questo per me È spiegabile Perché comunque Ok la manata Ok che comunque il fallo Cioè signori Però quella manata Voglio dire Mica l'abbia fatto apposta C'è una manata Irregolare Una manata secondo me Che non è fatta apposta Quindi per me Il primo gol Era da annullare Giusto Il secondo gol No Il secondo gol Per me non è da annullare Dunque la Juve Ha attaccato La Juve Partiamo da questo presupposto La Juventus Ha attaccato La Juventus Ha fatto la sua partita Perché oggi la Juventus Dal punto di vista Del piano Del gioco Non ci si può dire nulla È mancata la concretezza Sottoporta Però Un errore arbitrale Secondo me Non ha aiutato Quello Da annullare Il secondo gol Che per me È pura fantasia Cioè è un gol È un gol regolarissimo Però annullato Bah Comunque la Juve Va a terza A 21 punti Con questo pareggio Napoli Fiorentina E Atalanta Da raccocciano Ispettivamente A meno Quattro E a meno Cinque Entro il Verona Si trova Sedicesimo A più Tre Sulla zona Salvezza Dunque Secondo con l'annullato Dubbio Sul primo Me ce posso prestare Però Qualche dubbietto Ce l'ho Dunque Questo è il mio post partita Di Juve 0-0 Verona Se volete Tifosi Juventini Veronesi E non Ditemi la vostra Qui sotto Nei commenti E noi ci becchiamo Domani Con dei nuovi video Chiudo prima Non credo Non credo ci siano episodi In questi ultimi minuti Comunque Non credo Attenzione Qui parla in mezzo Nulla Si dai Non credo ci siano episodi Però mi voglio seguire Gli ultimi minuti Assieme a voi Gli ultimi minuti Assieme a voi Per confermare Se sarà Il pareggio Se sarà 0-0 Oppure no La Juve ovviamente Alla rimbarge in avanti Perché Meritava la vittoria La meritavano Assolutamente Però Ci sono messi Un pochino Il VAR Un pochino La sfortuna Ad evitare Una vittoria Che sarebbe stata Meritatissima Da parte Di Bianconeri Attenzione Attenzione Non ci posso credere Ci siamo Beccati Un secondo Goal In live La Juventus Di Di carattere Di carattere Di carattere Perché Gli mancava Solo il gol Per arrivare A questa vittoria Ed è arrivato Vi ripeto Ci sono messi Un po' Gli inf Ci si è messi Ci si è messo Un po' Il VAR Ci si è messo Un po' La sfiga Ma alla fine Il gol È arrivato Una vittoria Meritatissima Ma in cui Si potevano fare Più gol Mamma mia Ci siamo Peccati un altro Goal in live Incredibile Incredibile Vittoria Meritatissima Vittoria Meritatissima Ma poteva Arrivare In modo Menosofferto Comunque Io direi Di chiuderla Qua Perché Non credo Succeda Più nulla La Juve Ha segnato All'ultimo Ci siamo Peccati Il gol In live Un qualcosa Di incredibile Ciao Ragazzi E con questo La Juventus Va Ha 23 punti Ha 23 punti Ed è prima Per una notte Meritatissima Perché oggi Sul piano del gioco La Juve Ha vinto E convinto Verona invece Ha più 2 Sulla zona salvezza Ci siamo Beccati Il gol in live Signori Ci siamo Beccati Il gol in live Mamma mia Quante emozioni Stasera Juve Sul piano del gioco Non ci si può dire nulla Vittoria Meritatissima Però Poteva arrivare in modo Un pochino meno sofferto E con più gol Ciao ragazzi Poteva arrivare in modo E con più gol